Amici di Risto Business, ben arrivati! Oggi sono qui con... Cosimo Damiano Guarini Cosimo, cosa fa nella vita? Di cosa ti occupi? Sono un agronomo, consulente agroalimentare e attento alla qualità delle materie prime che gravitano nel mondo della ristorazione Benissimo, cosa ci fa quindi un agronomo a Risto Business? Il Risto Business è un momento di formazione, anzi direi di alta formazione per quello che riguarda i meccanismi di valorizzazione dell'impresa ristorativa e allo stesso tempo di attenzione di questo mondo a tutti coloro che stanno guardando all'approccio nella ristorazione Personalmente occupandomi di olio extravergine di oliva cerco di comprendere quali possono essere i meccanismi di valorizzazione di questo prodotto all'interno di un mercato così bello, complicato ma anche affascinante Quindi, a chi consigliamo questo corso? Assolutamente a chi vuole comprendere cos'è il mondo della ristorazione e ovviamente ai ristoratori e gli operatori del settore ristorativo che vogliono migliorare le loro performance andando oltre la qualità del prodotto Benissimo, da Risto Business è tutto, con il nostro amico agronomo vi auguriamo una buona giornata Grazie 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 Grazie